Appunti ed eliminazione Lollobrigida che si porta subito in testa prenderanno la campana di meno 49 ed entriamo subito nel giro che assegna i punti ed eccoci ai primi punti 2,70, 2,4,7 Lollobrigida, Francesca Lollobrigida e Lorenzato ecco il gruppo sotto l'azione della Lollobrigida poi Luciani, Lorenzato, Bormida poi Giulia Lollobrigida di Natale punti di meno 46 2,70, 43 quindi Lollobrigida, Francesca e Luciani, Veronica gruppo allungato sotto l'azione di Francesca Lollobrigida campana di meno 45 ed entriamo nei punti e ancora Lollobrigida con Luciani e poi 2,70 e 43 Lollobrigida, Luciani, Lorenzato ora c'è un rallentamento uno schiacciamento in testa al gruppo ed è Giulia Lollobrigida che esce e prende il suono dei meno 43 punti di meno 42 1,99, 2,70 Lollobrigida Giulia Lollobrigida Francesca ora ancora un rallentamento in testa al gruppo dove si è posizionata l'atleta dell'aeronautica militare all'esterno a Lollobrigida all'esterno a Lollobrigida esce l'atleta della concorrezione in prima posizione seguita da Corniga punti di meno 40 2,89, 21 la numero 21 campana di meno 39 Luciani si è portata in testa lo scaltenico Venezia e tu che suoni? sì sì posso guardare? vai vai ed eccole ai punti 2,89 2,70 il passaggio ai punti punti mi chiama a bena siamo ora alla campana di meno 37 ed è Lorenzato all'esterno che lancia un'azione decisa seguita da Lollobrigida e poi Lollobrigida ed è Lorenzato e Lollobrigida ai punti 2,70, 2,47 ora vediamo se questo terzetto va avanti o meno non si parlano cercano di trovare un accordo mentre dietro il gruppo si rialzano ma Luciani in testa al gruppo intanto il terzetto di testa ha preso la campana di meno 35 e direi che qui si è formato un terzetto in testa assai interessante eccole al passaggio dei punti 2,47, 2,89 quindi Lorenzato e Lollobrigida ed ecco che il terzetto di testa si è riportato sul gruppo dove Luciani viene il passo e ora la campana di meno 33 il terzetto peffia completamente il gruppo e come dal regolamento si pone davanti o davanti o dietro va in mezzo 2,89 2,70 al passaggio i punti ed è ancora Francesca Lollobrigida a tirare il gruppo che ora si è accodato alle 3 atlete di testa 2,70, 2,49, 2,89 questa è la testa del gruppo hanno preso la campana di meno 31 e ora siamo ai punti di meno 30 2,70, 2,47 ed è ora Lorenzato che si è portata in testa prende la campana di meno 29 allora il gruppo si è accodato al terzetto di testa che ora si presenta sul traguardo per i punti di meno 28 2,47, 2,89 ci sono cambi regolari fra le 3 atlete di testa ora è Luisa Sofì Huluwa in testa dello skating con Corezzo prende la campana di meno 27 punti di meno 26 2,89 2,70 e ora Lollobrigida in testa cambi regolari fra le 3 atlete in fuga hanno doppiato il gruppo le prime 3 hanno doppiato il gruppo Lollobrigida, Lorenzato, Uluvai hanno preso la campana di meno 25 siamo nel giro dei punti di meno 24 ecco i punti 2,70 2,47 quindi Lollobrigida Lorenzato la prima eliminazione sarà a meno 19 campana di meno 23 campana di meno 23 ricordo alle atlete la prima eliminazione sarà a meno 19 ed è ora Lorenzato che si è messa in testa a girare il gruppo e eccole al passaggio dei punti 2,47 2,89 quindi Lorenzato Uluvai ed è lei ora in testa con Lollobrigida in seconda ruota poi Lorenzato lì coperta al terzo posto poi dietro di lei la compagna di società Veronica Luciani intanto ha preso la campana di meno 21 siamo al passaggio dei punti del meno 20 2,89 2,70 questo il passaggio al prossimo giro eliminazione ecco che dietro la coda improvvisamente si anima perché c'è l'eliminazione 1,9,3 fermarsi avete visto come dietro la coda ha cominciato a muoversi rapida rapida per non incorrere nell'eliminazione punti 2,70 2,47 7,2,5 7,2,5 fermarsi ora sono sempre punti ed eliminazione punti per la testa 2,70 2,47 ecco ora che si lancia l'azione in testa al gruppo 7,5,8 fermarsi siamo ai punti 2,89 2,47 eravamo al passaggio di meno 14 7,6,7 è l'atleta che deve fermarsi eliminata intanto in testa Lorenzato con Lolo Brigida siamo ai punti siamo ai punti di meno 12 2,47 2,70 i punti 7,7,3,7 eliminata ed eccoci ed eccoci che ci apprestiamo alla volata per i punti di meno 10 7,7,3,7 7,3,7 fermarsi numero 43 ammonito 2,70,2,8,9 i punti di meno 10 ora siamo con l'eliminazione in corso di meno 9 5,05 fermarsi punti di meno 8 è la vula in testa con Lorenzato e Lolo Brigida 2,89 2,47 in passaggio i punti ed è ora Lorenzato che prova a rilanciare l'azione Lolo Brigida dietro di lei intanto siamo con l'eliminazione di meno 7 7,60 è l'atleta che deve fermarsi 7,60 fermarsi punti di meno 6 2,70,2,4,7 quindi Lolo Brigida e Lorenzato non volare adesso non volare adesso dai che ce l'è in dietro eliminata la 410 ed è ora vuoi vai testa al gruppo con Lorenzato poi la Lolo Brigida poi poi Falaschetti in quarta ruota al passaggio punti di meno 4 2,89 2,47 Urua e Lorenzato con quattro giri ancora dai 4,6,4 però è l'atleta eliminata in questo giro e intanto Francesca Lolo Brigida rilancia l'azione in testa al gruppo seguita da Lolae poi Lorenzato poi Bormida 2,70 2,89 i punti di uno meno 2 1,199 eliminata ed è partito lo sprint con Francesca Lolo Brigida Urua e Lorenzato e Lola Brigida Francesca Lolo Brigida che va a chiudere 3,70 3,8,9 e 21 l'ultimo passaggio non si sono mica ricordati che hanno un altro giro da fare quindi un punto lo prenderanno a 2,47 perché l'altra era doppiata